I rani imposteremo testardamente la ricostruzione. E poi ancora il sindaco di San Severino Marche, abbiamo stimato che finora gli sfollati sono circa 2000 le persone. Sono molto spaventate per questo stiamo allestendo almeno 5 punti operativi di assistenza insieme alla protezione civile, ai vigili del fuoco, ai volontari e alle forze di polizia, recuperando brandine e letti dai monasteri che non sono corollati. La società Vus, Valle Umbra dei Servizi, sconsiglia di usare l'acqua ad uso alimentare. Questi gli ultimi aggiornamenti, la linea torna a Benedetta Corbi. Eccoci di nuovo insieme, due ospiti che ci accompagneranno per un po', per alcune riflessioni che ancora vogliamo fare oggi pomeriggio insieme. La prima, l'Europa. A questo punto stavamo a discutere sui decimali, per quanti soldi ci servissero per il terremoto, per l'immigrazione, fino a poche settimane fa, qualche giorno fa. Da oggi le cose tornano a cambiare. E l'altra riguarda invece proprio l'Italia. Cosa abbiamo davanti adesso? Quante persone sfollate abbiamo davanti adesso? Quanti soldi ancora dovremmo spendere? E anche qui i due temi si tornano ad unire. Quello degli immigrati, quello dell'Europa, quello del terremoto. E allora, io vi presento Lara Comi, ero parlamentare di Forza Italia, che è collegata con noi da Roma. Buon pomeriggio Comi. E vi presento anche invece da Bologna, Lucia Borgonzoni, consigliere comunale della Lega Nord. Ce l'avevamo vista anche ieri, Borgonzoni. Buon pomeriggio. Con pochissimo tempo, ho avuto piacere che tornasse, perché appunto avevamo le dirette del pomeriggio che ci hanno mangiato tempo. Abbiamo un po' di tempo per riflettere insieme. Mi permetta di cominciare da Lara Comi per il suo ruolo di europarlamentare. Allora, poco fa, giusto, Filippo D'Averio diceva quanto sta accadendo, anche per quanto riguarda il nostro patrimonio culturale, storico. Non riguarda soltanto l'Italia, riguarda anche l'Europa, San Benedetto da Norcia, il santo europeo, la sua basilica che crolla. E poi tutto quello di cui adesso hanno bisogno queste persone e questo paese che ha bisogno, a questo punto, di un grande piano per affrontare quello che accade. Lara Comi, che Europa abbiamo davanti? Guardi, assolutamente sì, condivido anche con le riflessioni precedentemente svolte da Sgarbi, perché bisogna a volte appellarsi a qualcosa di superiore rispetto all'uomo in merito a queste circostanze. Sicuramente la messa in sicurezza di alcuni monumenti, di alcune chiese basiliche è sicuramente complicata, difficile e a volte anche inefficiente rispetto a una scossa di 6.5. Ritornando all'Europa, guardi, non c'è patto di stabilità che esista, quindi io non starei neanche a discutere e su questo anche ringrazio i tanti colleghi europei che oggi e ieri mi hanno mandato messaggi di solidarietà, a me e anche tanti altri italiani, per dimostrare che ci sono e questo per noi è importante, da comunicarlo anche alle popolazioni che sono state colpite dal terremoto che non sono sole. Innanzitutto cosa faremo in Europa? Primo, il concetto di patto di stabilità per me è già superato, cioè non è il fatto di non avere quella, tra virgoletta, lettera di ammonimento per sforare il debito o le spese sulla messa in sicurezza o su tutto quello che è la ricostruzione. Bisogna proseguire con fondi, soldi che l'Unione Europea ci deve dare, ma lo dico proprio ci deve dare perché avendo visto quello che era successo all'Aquila, su questo l'Europa non ha mai nessun limite di spesa quando c'è da ricostruire un paese. Accanto a questo io non voglio più sentir parlare del problema dell'immigrazione e dell'egoismo nazionale da Orban fino ad arrivare ai paesi dell'est che non accolgono ora immigrati, sia profughi che sia clandestini. Noi ora abbiamo la priorità degli sfollati italiani. Io una settimana fa, esatta, ero a Camerino, erano già 300 persone sfollate, tutto il centro era inagibile, quindi io non voglio assolutamente che un Orban di turno si permetta di non accettare o un profugo o un clandestino perché mi spiace, ora più che mai vengono prima gli italiani.